Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte e oggi a grande richiesta vediamo il brano di ultimo, i tuoi particolari. Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi nella strofa che sono Do maggiore, quindi se dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do, Mi, Sol forma il Do maggiore, poi il Fa maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do, forma il Fa maggiore, poi ci sarà il Mi minore, quindi se questo è Fa, questo è Mi, Sol, Si, Mi minore e poi il La minore La, Do, Mi e la canzone fa così E da tempo che non sento più la tua voce al mattino che gridavo mi facevo svegliare nervoso ma adesso invece mi sveglio e sento che qua mette il Mi minore mi mancano tutti quei tuoi particolari e infine mette il La minore poi la strofa si ripete allo stesso modo e poi c'è il ritornello che parte con il Fa maggiore e come vedete c'è un accordo nuovo che è il Re minore quindi Re, Fa, La e poi nel ritornello ci sarà ancora un accordo nuovo che è il Sol maggiore quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Si, Re e il ritornello fa così Oh, fa male dirtelo adesso ma non so più cosa sento se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli viaggiamo in ordine sparsi se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantatele qui poi si ripete ancora la strofa e il ritornello ma gli accordi sono sempre gli stessi bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte io vi lascio in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi scritti sopra e in più due link di puntate dedicate ad imparare proprio gli accordi del pianoforte inoltre vi lascio anche la diteggiatura per entrambe le mani e ci vediamo alla prossima puntata e ci vediamo alla prossima puntata